Il gruppo Intesa San Paolo in questi anni ha dedicato molta attenzione al mondo dell'energia, in particolare al mondo delle energie rinnovabili, pensando di prodotti, degli strumenti, un approccio finanziario specifico per tutti quegli operatori che volevano investire in questo settore. L'impegno dell'Istituto e di tutte le banche del gruppo è stato quello di creare in base alla tipologia di clientela di prodotti specifici, in modo tale da aiutare e di assistere direttamente l'investitore finale. Sul tema poi delle energie rinnovabili ha creato delle strutture specialistiche appunto come il Desk Energy di Mediocredito Italiano, che io coordino, proprio per assistere e aiutare la clientela, in particolare le imprese, a valutare con molta attenzione questi investimenti e a sostenerli nell'investimento. Analogamente a quanto è stato fatto per quanto riguarda le energie rinnovabili, la banca e le banche del gruppo Intesa San Paolo stanno studiando prodotti specifici nel settore del risparmio energetico e dell'efficienza energetica. Già oggi abbiamo alcuni prodotti specifici per una clientela small business ed imprese, oltre che alla clientela privata, interventi mirati al finanziamento, al sostegno finanziario per tutti coloro che vogliono fare interventi nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica. È un settore sul quale noi crediamo molto, contiamo di assistere perché riteniamo un elemento fondamentale per la politica energetica del nostro Paese. Sempre nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica un'attenzione particolare in questi ultimi tempi la dedichiamo agli operatori del settore, in particolare alle ESCO, cioè quelle imprese che si dedicano a servizi energetici e agli enti pubblici che stanno dimostrando grande interesse nel settore. Per questi ESCO e enti pubblici abbiamo studiato prodotti specifici per assisterli appunto nella loro intenzione di investimento volti appunto al risparmio e all'efficienza energetica del loro patrimonio immobiliare.